Signore, siamo ancora qua a Riccione, cari fratelli, sorelle, a predicare ancora l'Evancello, con l'Evancello di speranza anche al di fuori delle opposizioni della polizia che ci ha provato più volte a fermarci, a farci allontanare di qua, però il Signore ha fatto allontanare noi, loro, io non lo so come per miracolo, loro sono andati via e noi continuiamo ancora a predicare qua per queste strade che ha tanto bisogno, alleluia, che il Signore sia lodato e glorificato. Amen, alleluia. 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 Chi glorifica il Figlio, glorifica il Padre, chi riconosce il Figlio, riconosce il Padre. Alleluia. Chi ama Gesù, adora il dono di Dio. Non andate dietro le mentori delle religioni, di quelli che sono nei campanelli con mille denti, ma rinegono la potenza che c'è su Cristo. Amén, alleluia. Amén, alleluia. La pace che Gesù Cristo ti dà, il mondo non te lo può dare anche perché sei ricco. Amén, alleluia. La bellezza non ti fa grande, ma il tuo cuore è Gesù, ti fa una bellezza unica. Alleluia. Alleluia. Gloria al tuo nome e santo. Alleluia. Perciò abbracciato il Vangelo della speranza. E riconoscete che il Gesù è solo. E il tuo federe viene di cosa che viene di te. Salvatevi i giorni, cercate Gesù con tutto il cuore. Alleluia. Alleluia. Benedetto sia il tuo nome in eterno. Benedetto sia il tuo nome in eterno. Benedetto sia il tuo nome in eterno. Sì. Benedetto sia il tuo nome in eterno. Ecco il caro fratello Daniele, un soldato di Cristo. Alleluia. Si. Nel libro di Ezechiele, bene compreso che i figli di Dio quando si muovono, i cherubini si muovono, la ruota si muove, la gloria di Dio si muove con loro. Gloria al nome del Signore. Questa è la gloria di coloro che ascoltano e fanno la volontà di Dio per le strade. Ben parlò, e lo dico il nome, il fratello Chiocca, in una predica che toccò il mio cuore. Che disse, un vero evangelista è per le strade a predicare l'Evangelo. Amen. Alleluia. Io non porto... non me ne sto in silenzio. Come un vero... come un vero sentinella di Dio. Amen. Alleluia. Come Ezechiele, io dico quello che è. Perché il vero evangelista lo si vede per le strade. Lo si vede predicare grazie col fratello. Amen. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Già toccato il nostro cuore di venire qua a Riccione. Abbiamo avuto anche dei momenti di disturbo da parte delle autorità. Però il Signore ha allontanato loro. Alleluia. Ha allontanato anche loro. Gloria al nome del Signore. L'altra volta ci avevano cacciato, ma questa volta io e il fratello abbiamo messo autorità. Da qui non ci muoveremo. Bene, detto sia il nome del Signore. Continueremo a predicare. Amen. Alleluia. Perché la gloria di Dio è con noi. Alleluia. C'è stato fratello, sorello, un'anziana, un'anziana di quasi 70-80 anni. Gloria al nome del Signore ha toccato il suo cuore. Continuate quello che state facendo. Amen. Alleluia. Continuate che c'è un gran bisogno. Ha detto bravi, continuate. Bene, detto sia il nome del Signore. Continuate, non mi fermate. Il Signore sta facendo riflettere anche il cuore dei religiosi. Tanti anziani che sono ferventi delle loro credi religiosi, delle statue, delle immagini. Il Signore tocca i cuori. Alleluia. E' per questo che noi crediamo nella potenza dell'Evangelo, nella predicazione dell'Evangelo. Per questo siamo qua. E preghiamo al Signore. Alleluia. Finché spinga ancora l'operai nella sua messe. A Dio sia tutta la lode, l'onore e la gloria. Vi salutiamo qua da Riccione, fratello Arben, fratello Daniele. Amen. Con tanto amore, con tanto affetto. Un abbraccio nell'amore del Signore. Pace del Signore sia con tutti noi. Alleluia. Alleluia.